I-Colt, un'idea veramente carina, originale, moderna, ho conosciuto persone fantastiche. Opre aspettative, un successo, tanto entusiasmo tra i giorni e voglia di fare. Mi sembra dire che dovrebbe finire I-Colt e direi forse un termine medico, il contagio, il contagio delle idee. Allora, vi è piaciuto tutto. È stata un'ottima esperienza, sono felice dell'invito. In una sola serata ho sentito cose molto interessanti. Ho scoperto delle cose nuove, ho scoperto la musica, ho scoperto che ci sono forze nel mondo dove si può fare sesso fino a 80 anni. Da ambiti del tutto diversi, dalla musica, dall'animazione alla cardiologia. È un momento serio, è un momento divertente, è un momento di riflessione. Ho scoperto che Roma non può fare così stifo, ho scoperto che si può fare volontariato anche per se stessi. Mi piace questa visione della realtà, da vari spaccettatori e da immagini, perché è reale e va oltre. E quindi è un'esperienza bella e appassionante. Complimenti per questa Silicon Valley italiana. E quindi, per me sia un'ottima occasione e un'ottima idea di venire alla prossima edizione. E veramente, lo auguro tutto. Non datemi a trovare. Il contagio dell'entusiasmo, della passione per condividere nuove esperienze, è una cosa assolutamente positiva. Vi ringrazio. Sì, è un bellissimo Monday Talk. Viva, viva, talk. Viva, viva, talk. Una strada. Viva, 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 viva.